Inaccettabile la situazione in Libano, occorre fermare questa terribile escalation e l'appello di Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Ritrovare un'aderenza alla vita, alla realtà che sta cambiando, sono le parole di Monsignor Giuseppe Satriano nel corso del convegno regionale dei coordinatori parrocchiali. Chi sceglie dona la sua libertà, lo ha detto l'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna durante l'ordinazione di due nuovi sacerdoti. La Puglia sarà regione europea dello sport per l'anno 2026. La comunicazione arriva dall'associazione che riunisce capitali, città, comunità e regioni europee dello sport. Ben trovati alla prima edizione del nostro telegiornale di Teledeon. È inaccettabile la situazione in Libano, occorre fermare questa terribile escalation e l'appello di Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Dal pontefice arriva un pensiero per tutti i popoli colpiti dalla guerra. Sentiamo. Sono adolorato dalle notizie che giungono dal Libano, dove negli ultimi giorni intensi bombardamenti hanno provocato molte vittime e distruzioni. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation. E' inaccettabile. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese, che già troppo ha sofferto nel recente passato. E preghiamo per tutti, per tutti i popoli che soffrono la causa della guerra. Non dimentichiamo la martoriata ucraina, il Myanmar, la Palestina, Israele, il Sudan, tutti i popoli martoriati. Preghiamo per la pace. Ritrovare un'aderenza alla vita, la realtà che sta cambiando. Sono le parole di Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo metropolita di Bari e Bitonto, nel corso del convegno regionale dei coordinatori parrocchiali dal titolo Una bussola per iniziare alla vita di fede. L'intervista è a cura di Marilena Farinola. Sentiamo. Per poter declinare un'attenzione al futuro, imparando a guardare il presente con gli occhi del domani, il tema è quello di ritrovare un'aderenza alla vita, alla realtà che sta cambiando. E soprattutto il saper stare sulla domanda, non fornire risposte precotte. L'unica risposta che noi abbiamo e l'unica verità che illumina questo nostro agire è il Vangelo di Gesù Cristo. E alla luce di questo stiamo lavorando sull'iniziazione cristiana, non tanto e soltanto dei bambini, ma dell'intera comunità, perché il soggetto educante oggi manca. Mancano le figure genitoriali, mancano gli adulti che educano. I fatti di cronaca che noi stiamo registrando ci dicono drammaticamente che c'è un obbligo della coscienza e non abbiamo più persone che hanno la capacità di una testimonianza che formi, che educhi e che trasformi poi la realtà. Quindi dobbiamo in qualche modo ripartire proprio dagli adulti. Ed è questo lo sforzo che stiamo cercando di fare, non dimenticando le generazioni più giovani, più piccole, alle quali va la capacità di ascolto del disagio, ascolto della fatica, ascolto del dovere, ecco, transumare da una realtà ad un'altra. Non perdete mai la memoria del giorno in cui avete sentito su di voi lo sguardo di Cristo, che non vi ha giudicato, ma perdonato. Lo ha detto Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, durante l'ordinazione di due nuovi sacerdoti. Ascoltiamo. Chi sceglie si dona, si lega, dona la sua libertà, è un po' come un prigioniero d'amore. Lo fa chi si sposa e chi sceglie la verginità per il regno dei cieli. Chi promette obbedienza al vescovo, chi sceglie ogni giorno di pregare per il popolo di Dio, di servire, chi sceglie non per un giorno, ma per tutta la vita. Sono state queste le parole dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, nella sua omelia durante la concelebrazione eucalistica che ha presieduto per l'ordinazione di due nuovi sacerdoti. Diventa prigioniero, perde tante libertà, ha affermato il pastore, ma ne guadagna una unica ed incommensurabile, quella di essere libero dai suoi egoismi, dalle ristrettezze delle sue vedute parziali, dalla gabbia della sua pigrizia, dal desiderio di possedere con avarizia. La prima esortazione che faccio, ha aggiunto il presure, è quella di non perdere mai la memoria del giorno o dei giorni in cui avete sentito su di voi lo sguardo di Cristo che non vi ha giudicato ma perdonato. È il giorno in cui Dio, ha proseguito Renna, ci ha sorpresi perché ha guardato proprio a noi e gli sguardi di chi ci ama davvero non si dimenticano mai. Quello sguardo non aspetta che noi entriamo in una chiesa o in un luogo sacro, ma raggiunge la nostra coscienza ovunque, anche in un posto feriale o a lavoro. È arrivadito, solo chi ha provato la misericordia di Dio potrà annunciarla ad altri, solo chi non si dimentica di essere stato salvato potrà trovare infinita pietà per tutti. Cercare consensi dalla gente, difendere la propria posizione, il proprio ruolo, considerarsi impiegati di posto fisso. E' questo, secondo Monsignor Giuseppe Cagliazzo, arcivescovo di Matera, il pericolo più grande che può correre un sacerdote. Ascoltiamo. Il prete non cerca consensi dalla gente, lo ha detto Monsignor Giuseppe Cagliazzo, arcivescovo di Matera e Irsina, nell'omelia per l'ordinazione sacerdotale di Don Davide Fusiello, avvenuta nei giorni scorsi nella cattedrale di Matera. Il prete non cerca un'abitazione dove stare, ha continuato il presule, la sua vera abitazione non è un luogo nello spazio, bensì l'amore dove abitare e rimanere per sentirsi come Cristo, l'amato del padre. Secondo Monsignor Cagliazzo, abituarsi a fare il prete e a non essere prete, cercare i consensi dalla gente, difendere la propria posizione, il proprio ruolo, considerarsi impiegati di posto fisso, rappresenta il pericolo più grande che può correre un sacerdote. Un prete diocesano lo è per tutta la diocesi e non solo, per il proprio paese o città, ha chiusato l'arcivescovo, è veramente libero e ama la Chiesa ogni qualvolta con inevitabile sofferenza. Gli viene chiesto di servirla nella novità che diventa ricchezza per se stesso e per tutti i fedeli. Poi il suo pensiero, rivolto al neosacerdote Don Fusiello, in questo tempo così tribolato e insanguinato a causa soprattutto dei conflitti bellici tra cristiani ortodossi in Russia e Ucraina, tra credenti, ciò che prevale è osservare delle leggi che poco hanno a che fare con il Dio di Gesù Cristo, che è amore. Di questo Dio sei chiamato ad essere testimone con la vita ancora prima che con le parole e il suggerimento del presule a Don Fusiello. E cambiamo argomento, a breve saranno messi a punto dei protocolli finalizzati a garantire la sicurezza del personale sanitario e quanto deciso nel corso di un incontro che si è svolto in Prefettura a Bari. I dettagli nel prossimo servizio. Arginare è un fenomeno che sta diventando preoccupante, porre un rimedio utile a garantire il diritto alla salute e per farlo sarà necessario far incontrare prefetti e ASL pugliesi per definire nuove linee guida di intervento delle forze dell'ordine e porre fine alle aggressioni, ai danni del personale sanitario. È quanto deciso nel corso di un incontro che si è svolto a Bari e convocato dal prefetto del capoluogo pugliese, Francesco Russo. La riunione a cui hanno partecipato il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e responsabile del sistema integrato di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro denisivo si è resa necessaria dopo le aggressioni registrate in diverse strutture ospedaliere pugliesi. La Regione Puglia a luglio ha approvato delle linee guida che sono così innovative sulla sicurezza del lavoro ed anche sulla sicurezza dagli atti di violenza che sono stati pubblicati di recente su una rivista scientifica molto importante che hanno bisogno di protocolli attuativi che consentono per farla breve di accorciare i tempi di intervento delle forze dell'ordine ma quando c'è necessità senza disturbarle inutilmente. Il prossimo passo sarà far incontrare tutti i direttori generali delle ASDRE e delle aziende ospedaliere con i prefetti di ciascuna provincia per cominciare a definire le nuove linee guida che le aziende sanitarie dovranno strutturare entro il prossimo 30 ottobre e che poi daranno vita ai protocolli di intesa con le forze di polizia. Noi stiamo già lavorando con le direzioni generali, abbiamo già individuato insieme delle soluzioni e proprio questo è il punto che riguarda la security cioè quello di cercare di intervenire il prima possibile prima ancora che si verifichi le vendite, non è facile però attraverso una serie di, questo poi lo valuteremo insieme chiaramente noi abbiamo già individuato delle soluzioni praticamente cercare in modo di mettere in grado le forze di polizia di intervenire laddove ci siano degli elementi di pericolo in modo tale da poter dare anche una sensazione di maggiore sicurezza ai medici e in dubbio soprattutto quelli che stanno in situazioni più complicate ripeto, fronti di soccorso e guardie mediche si possano sentire un attimino più tranquilli. Restiamo sul tema della sanità, il Policlinico di Bari è il centro italiano con i tempi di attesa più bassi per trapianti di fegato e di cuore. Ascoltiamo il servizio. Rispetto alla media nazionale, al Policlinico di Bari è sufficiente attendere sette mesi per un trapianto di cuore e due mesi per il fegato. Così l'ospedale barese si distingue come il centro trapianti italiano con i tempi più bassi per l'accesso a questi due interventi salvavita. I dati del sistema informativo trapianti del Ministero della Salute certificano il grande lavoro fatto negli ultimi anni nell'ospedale universitario di Bari. Un risultato, quello sui trapianti di cuore e fegato possibile grazie alla determinazione del giovane team dell'Unità Operativa di Cardiochirurgia pronta a rispondere a ogni compatibilità e ai protocolli innovativi di utilizzo dei cosiddetti donatori con criteri estesi. Questi risultati, spiega il Direttore Generale del Policlinico di Bari Antonio Sanguedolce, riflettono l'altissimo livello di professionalità raggiunto dai nostri operatori e dall'organizzazione del nostro ospedale. Questi dati, conclude il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, devono aiutarci a far crescere sul nostro territorio la cultura della donazione. È una scelta importante che può fare il singolo o la famiglia, che può trasformare con un sì un momento di profonda tristezza, con uno di grande speranza per una nuova vita donata. E voltiamo pagina, la Regione Puglia è stata designata quale Regione Europea dello Sport per l'anno 2026. È stato riconosciuto l'impegno per la promozione dello sport come strumento di integrazione socio-culturale e il commento dell'ente regionale. Vediamo. Una lettera che definisce un anno all'insegna dell'agonismo, una comunicazione, arrivata da Bruxelles, che trasformerà le giornate in appuntamenti indimenticabili, segnati da regole definite dal rispetto dell'avversario, perché la Puglia è stata scelta come Regione Europea dello Sport 2026. La missiva è stata firmata da Gianfrancesco Lupatelli, presidente e fondatore di Aces, l'associazione che con la partnership dell'UNESCO riunisce capitali, città, comunità e regioni europee dello sport. Il riconoscimento è stato conferito perché la Puglia è riuscita a essere esempio lodevole di promozione dello sport per tutti, si legge, come mezzo per migliorare la salute, favorire l'integrazione sociale, facilitare l'istruzione e promuovere il rispetto. La Puglia ha anche dimostrato una politica sportiva esemplare, vantando encomiabili strutture sportive, programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività, prosegue la comunicazione. Noi siamo molto contenti di questo perché abbiamo lavorato nel corso di questi anni per fare in modo che lo sport fosse davvero sport per tutti e implementando le tante iniziative e gli investimenti sull'impiantistica sportiva e nelle motivazioni sono state spese belle parole per le nostre politiche sportive e quindi sarà una lunga cavalcata fino al 2026. lavoreremo per fare tante iniziative di preparazione coinvolgendo tutti dal nord del Gargano al sud del Salento per Puglia, regione europea dello Stonica. Sono serviti due giorni ai componenti del comitato di valutazione della candidatura presentata lo scorso 8 luglio per visitare centri e impianti sportivi. La candidatura è stata accompagnata da un dossier, da un logo e dalla creazione di un video capace di raccontare l'impegno della regione. Speriamo che nel 2026, anno in cui si svolgeranno a Taranto i giochi del Mediterraneo dalla Puglia si diffonda un movimento che riconosca allo sport la sua funzione di mezzo di emancipazione e quindi di pratica che consente a ciascuno di esprimere la propria personalità il proprio talento e le proprie capacità. E' il commento del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. E' positivo il fatto che arriveranno fondi destinati ai giovani a sostenere il ricambio generazionale in campagna. E' il commento di Coldiretti Puglia per l'istituzione di nuovi fondi ISMEA. Ascoltiamo. Per la Puglia e non solo, i nuovi fondi ISMEA di Generazione Terra sono importanti per sostenere il ricambio generazionale nelle campagne dove sono quasi 6.000 le imprese agricole condotte da under 35 messe a dura prova da ostacoli che impediscono o rallentano l'ingresso e la continuità nella gestione secondo un rapporto del centro studi di Vulga. E' quanto afferma Coldiretti Puglia nel commentare positivamente il via al secondo bando dello strumento fondiario dedicato ai giovani che finanzia fino al 100% l'acquisto di terreni agricoli. Le risorse a disposizione ammontano a 80 milioni di euro con il via alle domande dal 30 ottobre prossimo. Per i giovani e le donne, Coldiretti lancia una proposta finalizzata al consolidamento del settore attraverso formazione, semplificazione e strumenti flessibili di accesso al lavoro, incentivi per poter operare in velocità e promuovere investimenti in innovazione con un vero e proprio rilancio economico e sociale dell'agricoltura regionale. Comincia un nuovo anno per la Total Look, l'Accademia di Estetica e Acconciatura con sede ad Andria, Trani e Altamura. Fra qualche mese la scuola di formazione festeggerà 30 anni di attività. Il nostro segreto, spiegano dalla Total Look, sono i nostri docenti. Sentiamo. È tempo di tornare in aula per conoscere i fondamenti della professione e di mettere in pratica ciò che è stato acquisito con impegno e dedizione. Un anno nuovo è appena cominciato per la Total Look, l'Accademia di Estetica e Acconciatura che si appresta a festeggiare i suoi 30 anni di attività, chiamati al rapporto i docenti delle tre sedi, Andria, Trani e Altamura. È un lavoro avvincente quello che cerchiamo di insegnare ai nostri allievi, spiega l'Art Director Vincenzo Adduasio. Non possono mancare però costanza e passione. Questo non si può insegnare. In un tempo che i giovani non trovano lavoro, non è noi, ma è la nostra professione che dà modo a poter lavorare. Perché io sono da 50 anni, ho fatto il parrucchiere da donna, quindi stiamo nella professione da tantissimi anni. Mio figlio è anche un parrucchiere, segue me e quindi trasmettiamo i valori di questa professione. Le classi seconde e terze sono già al lavoro, presto saranno accolti anche i nuovi arrivati. Il corpo docente è pronto ad accogliere i nuovi giovani studenti. Non scegliamo docenti a caso, ma devono saper fare la loro professione, quindi devono essere dei professionisti sotto tutti i punti di vista, ma che debbano saper insegnare, formare e dare quello che è il loro sapere ai nostri allievi. Abbiamo docenti che sono con noi dalla nascita della scuola, tanti e oggi ne abbiamo qualcuno, saranno al primo anno con noi. Proprio perché siamo sempre alla ricerca di qualcuno che possa darci e dare una mano ai nostri nuovi allievi che andranno a descriversi, che frequenteranno questi corsi e soprattutto faranno di questo mestiere il loro mestiere per il futuro. Tanta pratica certo, ma soprattutto tanta teoria. Qui all'Accademia Total Look la salute del futuro cliente è al primo posto. Oggi innanzitutto, purtroppo per il dottor Google, il cliente arriva con tanti saperi, anche frammentati, però loro devono essere più competenti. Io dico sempre ai miei ragazzi che è un viaggio, è un viaggio di scoperta nel sapere, che poi si unisce inevitabilmente con i loro saperi di pratica e domani quando concludono la scuola si chiude un cerchio e quindi loro diventano competenti non solo perché hanno la manualità, perché hanno visto fare e così hanno imparato, ma anche perché conoscono come funziona la cute. Io dico sempre, mi lati in alto a fare il professionista e starete bene, avrete una professione che vi dura per anni, come durate a me per anni. Ed è tutto per questa prima edizione, noi naturalmente vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia dei nostri programmi televisivi. Grazie a tutti.